Nell'aula magna dell'università di Padova, uno tra i più antichi etenei italiani, cerimonie solenne per il conferimento di quattro lauree honoris causa. In economia e commercia l'editore Giovanni Fabri, che ha saputo allineare la propria casa editrice all'esigente della cultura di massa, offrendo alla cultura stessa più funzionali metodi di penetrazione. In scienze politiche ad Alfonso García Valdecasas, accademico di Spagna. In filosofia a John Herman Randall Junior, professore di filosofia alla Columbia University. In pedagogia all'ungherese Laios Cardos. Il riconoscimento accademico a Giovanni Fabri premia una lunga e coraggiosa opera in uno dei settori più difficili e delicati dell'attività imprenditoriale, quello della carta stampata. Egli ha dato vita a quel potente gruppo di aziende nel campo editoriale grafico e cartario, che va sotto il nome di casa editrice Fratelli Fabri, applicando tecniche industriali e commerciali di avanguardia, che sono studiate come modello e applicate ormai in gran parte del mondo.